Quindi attenzione, ora siamo arrivati a tutti i santi, la ricorrenza dei morti e ci sono tante tradizioni di gastronomia ma soprattutto di dolci su queste date particolari. Allora siamo andati a Caltanissetta per sentire una rinomata casa che produce torrone ed altro e quindi io credo che meglio di così non si può chiudere il nostro telegiornale. Seguite il servizio, grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.